Lo scopo di Città dei Mestieri è aiutare le persone ad essere più forti, ad essere più forti dentro, ad essere più capaci di scegliere, ad essere più cittadini. Benissimo. Quanti curriculum avete accompagnato negli ultimi due anni? Dunque 19 più 13, 32.000 momenti di incontro con persone che erano alla ricerca al 98% di un lavoro, giovani e meno giovani.